Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, sono Yas e oggi sono qua per mostrarvi tutti i nuovi talenti che sono stati aggiunti su FC24 negli ultimi mesi, nelle ultime settimane. Prima di iniziare mi raccomando lasciate il like, iscrivetevi a tutta la campanellina e vi ricordo che sul canale sono presenti altri due video in cui vi mostro i migliori talenti di FC24 e i migliori talenti economici per le vostre carriere. Sarà una lista abbastanza lunga quindi direi di partire subito e partiamo con i portieri. Vi dico già che la maggior parte dei giocatori sono molto giovani quindi hanno overall abbastanza bassi, sono comunque giocatori ottimi magari per dei rotuglori. Partiamo dai portieri, come vedete sono stati appena aggiunti quindi tanti non hanno la faccina però verrà aggiunta secondo me nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Però sono stati aggiunti secondo me tanti talenti interessanti, vedremo anche tanti brasiliani soprattutto che sono arrivati in Europa, tantissimi in questo mercato invernale. Come per esempio Lucas Perry, 25enne quindi un po' in là con l'età ma comunque è un nuovo portiere anche abbastanza talentuoso, alto 1,97m quindi un buon portiere anche per FC24 che sicuramente vi vado a consigliare. Poi andiamo sui terzini destri dove sono stati aggiunti tanti talenti tra cui anche Hector Forte del Barcellona che sembra già un terzino utilizzabile magari anche dalla serie B spagnola, 16enne. Può giocare anche come difensore centrale, alto 1,85m quindi può farlo sicuramente anche il difensore centrale. C'è Alex Gimenez che insomma è stata una bella scoperta del Milan, nella realtà sarebbe in prestito dal Real Madrid ma qua è già di proprietà del Milan e secondo me dal Milan si riesce a prendere per un prezzo anche abbastanza basso oppure in prestito magari anche in serie B o si può usare anche in Spagna tranquillamente. Sono stati aggiunti anche altri talenti della serie A come Leoni che in realtà gioca in serie B, come Pierozzi che è un buon terzino che in realtà è in prestito e anche qua non potrete prenderlo la prima stagione. Un altro brasiliano che è arrivato in Francia è Andrielson, 25enne anche lui, 26 di overall, un difensore centrale abbastanza buono. C'è una bella capigliatura, ancora nella faccina ma secondo me verrà aggiunta presto, c'è Simic che anche lui è stato aggiunto al gioco, spero lo aggiorneranno perché per il momento è poco utilizzabile a parer mio però comunque è un buon centrale. Un buonissimo centrale, uno dei migliori talenti aggiunti è Lucas Beraldo del Paris Saint Germain, appena arrivato dal San Paolo, difensore molto forte, non altissimo però piede mancino ed è un giocatore che ha un potenziale veramente molto molto alto e quindi un giocatore che vi consiglio. Tra l'altro non costa neanche tanto quindi dateci sicuramente un'occhiata. Abbiamo anche Jutzen che è andato in prestito alla Roma e sta facendo molto bene, secondo me lì faranno un bel upgrade nelle prossime settimane quindi anche gli overall che vedete qua sappiate che se il video lo state vedendo tra qualche settimana o qualche mese dall'uscita sicuramente dei valori saranno un pochettino diversi. Un altro giocatore molto interessante è Sebastian Boselli che ho già usato anche in una delle mie rebuild, non mi ricordo quale, credo quella con il Catania, giocatore molto 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 forte, l'ho anche provato in game, mi è piaciuto veramente tanto. Abbiamo anche Bartesaghi che è stato appena giunto, cioè in realtà è stato giunto da un po' di tempo, nell'ultimo video non l'avevo fatto vedere. Lui è anche ottimo per una carriera magari in Serie B oppure dopo qualche stagione che magari sarà cresciuto. Abbiamo tanti altri terzini, anche Mota dell'Inter che però è ancora un pochettino acerbo. Omar Campos secondo me è uno dei migliori terzini sinistri aggiunti, già utilizzabile messicano che è andato al Los Angeles in teoria proprio questo inverno. Adam Asnu, anche lui un grandissimo talento, ancora molto acerbo ma secondo me crescerà veramente tanto, del Bayern Monaco. Altri terzini e poi andiamo con i centrocampisti, un altro grande talentino del Barcellona, come sempre pieno zeppo veramente di talenti e ne vedremo veramente tanto. Johnny Cardoso, anche lui appena arrivato statunitense al Betis ed è un giocatore che sembra già niente male. Peccato non abbiano la faccina questi giocatori ma ripeto, già nei prossimi giorni, secondo me nei prossimi aggiornamenti aggiungeranno tante tante faccine, soprattutto dei giocatori che hanno degli overall un po' più alti. Vinicius Zanocelo, un altro brasiliano che è arrivato in Portogallo, un centrocampista secondo me con delle buone stats, magari più offensivo che difensivo, anche se in realtà potrebbe essere una buona mezzala. Un metro e 85, quindi sicuramente interessante. Nonge è stato aggiunto alla Juve, anche lui è un buon giocatore che abbiamo visto anche la rebuild che ho fatto con la Juve Under 23, la next gen, lo trovate sul canale. C'è anche il fratello di Mbappé che è stato aggiunto qualche settimana fa, 16 anni, 62 di overall, sicuramente un giocatore molto molto diciamo quotato, ha un potenziale abbastanza alto, sopra l'80. Così come anche Kevin Zeroli, che secondo me è un buon giocatore, gli ha dato un buon overall per assurdo più alto di Simic, che ha dimostrato meno Zeroli per ora in prima squadra. Però insomma molto molto quotato, sembra un bel centrocampista già utilizzabile. Un altro che vi consiglio è Marcel Ruiz, che è svincolato, quindi ha la prima stagione appena iniziata la carriera, potete prenderlo se siete magari quelli che amano gli svincolati. È un buonissimo centrocampista già utilizzabile, vale 11 milioni e mezzo, quindi potete anche già usarlo per fare contropartite eccetera, ma sinceramente lo utilizzerei perché sembra veramente un bel bel centrocampista. Abbiamo tanti altri giocatori come anche Ciammaglichella del Torino, che sembra veramente un buon buon giocatore, 18enne, insomma chi gioca ed FM già lo conosce. Ci sono un altro po' di talenti interessanti, sui tre quarti molto molto forte, sembra questo Stojkovic che sicuramente vi posso consigliare. Nipan è un altro dei migliori talenti della Scandinavia, norvegese, veramente un giocatore incredibile che sicuramente quest'anno o l'anno prossimo avrà un overhaul e un potenziale molto molto più alto. Clark è tornato su FC ed è anche lui un giocatore sicuramente da utilizzare, pensavo avesse il gameface, invece no. Suslov che sta facendo molto bene con l'Ellas, e gli ha dato un buon overhaul, 71 di overhaul, sembra avere delle belle stats, secondo me è uno di quelli più utilizzabili di questa fascia di prezzo. Vale comunque 4 milioni, quindi non costa tanto. Yildiz, che ancora 66 di overhaul, ne aspetto che lo aggiornino al prima possibile, perché in realtà sta facendo, non dico il titolare, ma quasi nella Juventus. Abbiamo altri talenti come seconde punte, poi stiamo arrivando sui pezzi forti, secondo me, di questa lista. Il primo è Benjamin Rolliser, che però non è il migliore che è arrivato in attacco del Benfica, un buonissimo attaccante che può fare anche l'ala, quindi può fare tutti i ruoli dell'attacco. Un altro brasiliano che è arrivato su FC24, Gabriel Peck, che è andato alle Galaxy, è tornato su FC24, che era, se non sbaglio, tornato in Brasile, quindi non era su FC24. Ora è ritornato con un potenziale leggermente rimaneggiato, rimoderato al ribasso, però, insomma, resta comunque un buon giocatore col potenziale dinamico, può crescere veramente tanto. Abbiamo anche Zimas, che vi consiglio veramente tanto, lui sembra veramente una bestia, una gemma nascosta di FC24, e uno dei migliori talenti, se non secondo me, il miglior talento che è arrivato in questo aggiornamento invernale di FC24, è Vitor Roque, che conoscerete tutti, strapagato dal Barcellona, 40 milioni, 18enne. Che, nella realtà, ho visto un paio di partite, non è male, si muove bene, è più una seconda punta, siccome è che è una punta vera e propria, molto veloce, molta finalizzazione per essere 18enne, sicuramente l'ha fatto molto forte, tanti play styles, tiro di precisione, tiro potente, rapido, talento naturale e passo veloce. Ma l'altro giocatore da tenere sott'occhio, appena arrivato anche lui in Europa, è Marcos Leonardo, anche lui brasiliano, e lui, ragazzi, già sta facendo molto bene al Benfica, sta segnando, sto prendendo la voce. È un giocatore diverso da Vitor Roque, lui è più una punta, a parer mio, è più un giocatore che diventerà proprio una punta, sicuramente sarebbe anche una bella coppia. Brunner, anche lui, è un bel giocatore, magari da utilizzare, a parer mio, nelle serie inferiori in Germania, vi ricordo che c'è anche la terza divisione, quindi potete far di bello to glory e lui sicuramente è da provare. Un'altra gemma nascosta che vi consiglio è Allen Obando, che quando l'ho visto ho detto, questo è veramente un fenomeno. È alto, c'ha 4 stelle piede debole, ha un buon rendimento alto-medio per una punta, è abbastanza rapido, è un 65 di overall, quindi comunque lo potete migliorare tanto. Elevazione 89, c'ha una buona forza, c'ha una buona finalizzazione per essere, ripeto, un 65 di overall, lo potete allenare. Ma secondo me lui, ragazzi, è un altro di quei giocatori, quelle gemme nascoste di FC24, che secondo me vi possono veramente far divertire. E sicuramente le prossime rebuild lo andrò a prendere, dal Barcellona però in Sud America. Abbiamo poi anche Marco Guium, che ha esortito col Barcellona, segnando un po' di settimane fa. Non è proprio il mio tipo di attaccante, però comunque è un attaccante che magari se vi piacciono questi tipi di giocatori ci può stare. Victor Barberan, che lui è un ex Barcellona, se non sbaglio, che sta facendo molto bene alle brughe. Passiamo poi alle alle sinistre, dove è ritornato Luis Enrique. E niente ragazzi, si chiude così questo video, spero vi sia piaciuto, arriviamo a mille mi piace se volete, un altro video di questo genere. Commentate qua sotto con altri talenti che magari mi sono perso o con i talenti che avete provato o che non vedete l'ora di provare. Ditemi qua sotto tutto quello che volete e noi ragazzi ci vediamo tra un paio di giorni, probabilmente con una nuova rebuild. Mi raccomando, iscrivetevi se ancora l'avete fatto, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, dal vostro Yas.